Scelto per ospitare la prima giornata della sicurezza, promossa dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per formare ed informare tecnici ed operai sui rischi e sulla prevenzione da attuare per lavorare sui corsi d'acqua, il Lavanzone è tornato protagonista. A Talla, dove il torrente è stato oggetto di manutenzione ordinaria in occasione della dimostrazione che ha coinvolto tutto lo staff operativo dell'ente, uomini e macchine si sono messi all'opera. Dopo il controllo della vegetazione e il taglio selettivo delle piante, infatti l'attenzione si è spostata sulle opere idrauliche. Nella Bonifica Montana, spiega l'ingegnere Enrico Righeschi del settore difesa idrogeologica del Consorzio, è essenziale la funzione svolta da briglie e soglie che hanno il compito di stabilizzare le quote di fondo dell'alveo impedendone l'erosione. Qui siamo intervenuti ricostruendo la soglia in gabbioni come le restanti parti dell'opera rimaste intatte con l'inserimento di massi ciclopici sommersi al piede al fine di evitare lo scalzamento da parte delle piene. Si tratta di un intervento che ha richiesto un investimento di 15.000 euro. Questa attività risulta strategica non solo per migliorare la sicurezza nei luoghi di intervento, ma anche per difendere il fondo valle dove si concentrano gli insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, ha concluso la Presidente Serena Stefani.